Allora, buongiorno a tutti, abbiamo ospite, carissimo ospite, caro amico, amico Giuseppe Buongiorno a tutti, buongiorno Rio Buongiorno Giuseppe è oltre che un grandissimo appassionato di fotografia che utilizza anche delle materiale piuttosto importante e stampa e poi recentemente ho scoperto che ha anche Plotter addirittura in casa e poi come al solito ho molto leiso quando Giuseppe si mette a fare e mira sempre al massimo e oggi è qua, intanto una è venuta anche a ritirare è un libro che ha dedicato, ha lasciato Davide Mengacci gentilissimo, spero che veda questo video, lo ringrazio, è stato gentilissimo è questo bellissimo libro che ha una sua antologia Poi, chiacchierando, lui dice, ma tu conosci questo libro? Io dico, sinceramente, onestamente, no, non lo conosco e allora lui fa, cioè Giuseppe mi fa, allora te lo regalo però, allora, spiegami questo Doramar sì, Doramar, questo è il libro è già abbastanza emblematico il titolo nonostante Picasso sì Doramar, credo che non sia più di tanto conosciutissima al grande pubblico iniziò a fare fotografia all'era, mi pare, del 1907 come data di nascita sì, sì, assolutamente tra l'altro lavorò con grandi maestri abitava in Francia di origine come tanti allora che abitavano in Francia Parigi faceva da collettore di grandi esponenti sì, sì, certo pittori, scultori, fotografi, eccetera e aveva una carriera già notevolmente avviata di fotografa faceva moda, faceva altri, curava altri settori ovviamente le foto che ci sono non sono tantissime perché poi mai alcune sono state perse e quant'altro conobbe, ahimè, dico ahimè per lei, Picasso è conosciuta sicuramente a coloro che frequentano la pittura come una delle muse di Picasso la serie di rappresentazioni che più sono conosciute sono la donna che piange cioè lei posò per Picasso proprio in questo periodo in cui ripeteva in modo abbastanza puntuale determinati temi e comunque in estrema sintesi Dora Amara a un certo punto incontra Picasso Picasso esercita su di lei questo grande magnetismo che lui sapeva sempre applicare alle donne che conosceva certo, sì e divenne al suo amante divenne al suo amante contestualmente a una donna con cui era sposato quant'altro quindi un rapporto abbastanza burrascoso Picasso tendenzialmente aveva sempre questa abitudine di lui si considerava ovviamente il più grande in assoluto quasi un Dio in terra certo per cui non accettava di avere accanto a sé qualcuno in maggior ragione una sua compagna, una sua amante che riuscisse a fare un'attività che aveva a che fare con l'arte che lui, a un livello che lui non arrivava la fotografia, si sa che faceva delle foto Picasso però sicuramente non poteva essere il bello di Dora Amara che devo dire, ho visto da questo libro fare delle cose veramente molto molto belle e lui la portò, la convogliò in modo crudele come faceva lui con le donne che un po' gli derivava dal suo carattere un po' gli derivava da questa anche sua formazione da spagnolo con tutto un background di un certo tipo un'educazione di un certo tipo la convogliò, la convince ad abbandonare praticamente la fotografia per avvicinarsi alla pittura però quando lei cominciò ad avvicinarsi alla pittura facendo anche dei lavori interessanti cominciò a umiliarla in un modo terrificante e quindi, veniamo al discorso della donna che piange lei poco per volta, da donna molto forte molto emancipata, qual'era precedentemente si scredola tutta la energia si scredola e lui gode questa cosa, la sempre fa con tutte le sue donne lui ha sempre detto nessuna donna mi può lasciare l'unica donna in effetti che lo lasciò di sua iniziativa sopravvivendogli in modo egregio fu François Gillot che credo sia tuttora viva credo abbia più di 90 anni ma credo sia tuttora viva pitrice e quant'altro D'Oramar fu sostanzialmente costretta a lasciarlo perché proprio intorno al 45 mi sembra intorno al 45 iniziò anche questo rapporto appunto con François Gillot che era una giovanissima, 16enne che Picasso l'ha conosciuto per strada aveva questo fascino magnetico con le donne è fortunato lui e allora adesso faccio una domanda ma perché mi regali questo libro? perché è così tanto importante questo libro te lo regalo perché sono sono grandissimo mi sta mettendo in un angolo ne hai conferati due allora sono grandissimo appassionato di libri di fotografia si è vero si parla di libri di autore la tecnica poi è un'altra cosa e poi per me Giuseppe è quello che è un cacciatore di testa perché anche Monica Cordiviora e Valentina Tamborra eccetera tu mi avevi parlato due anni tre anni o cinque anni fa e io non le conoscevo non li conoscevo nessuno e poi cioè dopo scopro e allora tu dici oh finalmente hai conosciuto finalmente hai conosciuto quell'altro allora te l'avevo detto adesso tu devi diventare agente di notte in serie talent scout faccio delle foto schifose però non è vero non è vero le due foto comunque noi utilizziamo per dimostrare cioè che cosa fa Leica SL che cosa fa Hasselblad che cosa cioè no che qualità si in effetti utilizziamo per quello tester tester sì sì ma l'ultima cosa importante che ci tengo a precisare perché poi magari a qualcuno viene in mente questo episodio l'ultimo lavoro forse che fece di una grossa rilevanza sì fu lei che fotografò Picasso mentre dipingeva Guernica quindi le famose foto le uniche foto che sono state fatte sì di Picasso che sta dipingendo Guernica sono le sue e se riuscite a capire attraverso quelle foto anche una tecnica che ho applicato però qua non entro in dettaglio perché sicuramente ne sanno tantissimo di più coloro che fanno pittura e quella serie comunque citata più volte proprio di Dora Mara finito il rapporto con Picasso si rinchiuse per 50 anni in una sorta di più assoluto negazione di se stessa cioè non frequentava più nessuno eccetera e visse comunque fino a circa 90 anni sopravvivendo nonostante tutto a Picasso era anche nata dopo però fino a tardetà oltre 90enne però con una vita di clausura sostanzialmente questo è un po' al cerchio sto regando questo libro a Rio perché sono un grandissimo pasticcione perché a forza di acquistare libri 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 vai avanti questo passo ti prego grazie Giuseppe grazie a voi e un saluto a tutti grazie a voi grazie a voi grazie a voi